Come notizie ve la voglio dare in diretta, mi dicono in questo momento che è stato collaudato l'impianto provvisorio di pubblica illuminazione a Viale Olimpico, da stasera si accenderanno le luci. In questo tratto il buio è totale, le uniche luci sono quelle delle autovetture che percorrono la strada. Per i pedoni che utilizzano quel marciapiede il pericolo è notevole. Sarebbe necessario un intervento immediato di sistemazione dell'illuminazione completamente assente fino a via Giotto. Tra l'altro anche questa arteria pur essendo illuminata da ambo i lati non sembra essere molto sicura.